E questo l'anno eccezionale per Bitcoin non solo per il quasi 170% di rendimento che sta creando nell'anno 2023 ma anche perché questo è un anno unico da un punto di vista di serie storica, un anno unico da un punto di vista di struttura per quello che sta facendo. Siamo arrivati su un livello importantissimo ma dove siamo diretti nel medio-lungo periodo e quindi anno 2024, benvenuto e andiamo a fare un briefing di tutti gli aggiornamenti legati a quelli che sono i grafici di lungo periodo di Bitcoin per capire dove siamo diretti nel 2024, che cosa è successo in questo 2023 straordinario, almeno al momento manca un mesetto diciamo, quindi non è che si può cambiare più di tanto e tra le altre cose stiamo andando a vedere anche quelli che sono i grafici composti, i grafici quelli particolari di cui vi ho riempito la testa negli scorsi anni e questo è il più importante, quello che poi ci aveva indicato l'anno scorso il punto di ingresso preciso, cioè l'inizio del nuovo ciclo annuale. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi iniziamo subito con l'analisi di lungo periodo, vi abbiamo promesso una live ma oggi non riesco e quindi si va per questo video normale. Allora, primo grafico, il grafico annuale di Bitcoin perché volevo farvi vedere quelle che erano le due resistenze che avevamo indicato su questa annata 2023, l'arrivo ai 28.000-30.000, che era il livello di resistenza primario diciamo, quello facilmente raggiungibile, Bitcoin c'è arrivato nei primi mesi, dopo si è fermato tantissimo tempo proprio su quella soglia, infatti se vi ricordate è stato veramente molto tempo ragazzi, vi faccio vedere l'altro time frame, quello più chiaro, vedete in questa zona qui, vedete quanto tempo si è fermato proprio su quel livello di resistenza che era il livello di resistenza iniziale. Superato però quello scoglio che avviene ancora una volta con il cosiddetto breakout di una barra di congestione che viene definita in termini di analisi tecnica, barra di riaccumulazione, quella che vedete in questo punto, breakout in questo livello e pam, nuovo trend delineato. Nulla di anomalo, tutto secondo le classiche regole dell'analisi tecnica e tra le altre cose in concomitanza anche con una questione ciclica particolare, cioè la possibilità di fare un massimo del ciclo annuale proprio in questa fase. Allora la struttura della seconda livello di resistenza che Bitcoin poteva raggiungere era tra questa zona e questa, ovviamente è molto spazio ragazzi perché siamo in un ambito di una candela di un anno, quindi è ovvio che sia molto spazio, però questo è un anno eccezionale, qualcuno di voi ha già intuito perché, se qualcuno di voi ha già intuito perché scrivetemelo nei commenti, ma io lo dirò tra poco, però dite, io ci sono arrivato prima. È un anno particolare perché si è avvicinato al livello di massimo storico di Bitcoin in chiusura annuale. Attenzione a questa cosa perché non è da poco ragazzi, va bene, non è da poco ragionare in termini di massimi storici di close dell'anno perché quelli sono livelli di resistenza impressionanti. Dove sta la chiusura del massimo storico? A 46.200 dollari. Quindi se noi volessimo andare a ragionare siamo arrivati ai massimi storici in chiusura annuale di Bitcoin. Questo significa che se dovesse rompere questi livelli di 46.200 dollari e chiudere nel mese di dicembre al di sopra di questo livello, intorno ai per esempio ai 46.547, avrebbe teoricamente disegnato un nuovo massimo storico in chiusura annuale nell'anno 2023. Questa cosa è strabiliante ragazzi e non è mai accaduta nell'ambito delle criptovalute e di Bitcoin dopo un bear market ragazzi. E soprattutto non è mai accaduto che il bear market venisse interamente ritracciato come in questo anno. E c'è stato un ritracciamento adeguato nell'anno 2019 dopo il bear market 2018, ma attenzione perché tutto è avvenuto verso giugno, questa fase qui. Poi da giugno a dicembre il mercato ha stornato andando a fare una fase ribassista che ha creato questa shadow che vedete nell'anno. Quindi è vero che il livello dell'open dell'anno 2018 e quindi il massimo del 2017, quello in close sempre, era stato toccato anche nel 2019, ma poi il mercato aveva stornato pesantemente andando a fare poi una close a metà di questa struttura, di questa candela. Ora, a meno di situazioni anomale, e quindi in un mese, ma neanche un mese, 20 giorni, 24 giorni circa, vedere Bitcoin crollare o crashare in maniera imponente, cioè andare magari a 32.000 dollari, quindi vi dico una cosa imponente. In questo momento, teoricamente, l'anno 2023 sancisce la prima volta in cui Bitcoin recupera quasi totalmente un bear market in un solo anno, perché nei precedenti non lo aveva fatto. Questa era l'anno 2014 con un leggero recupero, tra l'altro il bear market era finito a cavallo nel 2014-2015, poi è stato recuperato in parte. Questo invece è l'anno 2018, bear market 2018, recuperato in shadow ma poi chiuso in parte. In questo caso, invece, il recupero avviene in maniera quasi totale, perché l'opening dell'anno 2018 era avvenuto a 46.200, in pratica lo stesso livello di chiusura dell'anno prima, quindi il primo gennaio dell'anno 2022, e questa zona qui in pratica è stata quasi recuperata. Vediamo in questi giorni che cosa combina Bitcoin, se addirittura può andare a segnare un massimo. Allora, questo ci dà anche l'importanza di questo anno, un anno incredibile, ed era un anno, ragazzi, che io mi aspettavo non così forte, perché ovviamente sono molto prudenziale, vi dico francamente, quindi a prescindere non me lo aspetto una forza del genere, poi io seguo il trend e basta, quindi vado a cavallo del trend quando parte e basta. Ma in sostanza non mi aspettavo una forza del genere, ma me lo aspettavo molto forte, per via di una questione tecnica, cioè l'assoluta e totale distanza di molti retail dal mercato delle cripto, che avevamo visto nel 2018, l'indicatore per eccellenza più importante di tutti, quando tutti abbandonano la barca, perché la vedono affondare, è il momento giusto per fare grandi numeri stellari. È così da vent'anni, è così lo sarà sempre, davvero io l'ho visto da vent'anni, è così da centinaia di anni, ed era incredibile, ragazzi, quando io ho notato questo disinnamoramento verso il mercato delle cripto, ne ho parlato anche in diversi video, ho anche immaginato che l'anno 2023 potesse essere un anno molto proficuo, non mi aspettavo così tanto proficuo, ma ovviamente è meglio essere sbalorditi e stupiti in positivo che in negativo, quindi io sono un investitore, quindi devo essere sempre prudenziale, ragazzi, in quello che vado a realizzare. Quindi nuova resistenza davanti a Bitcoin, ed è una resistenza potentissima, ragazzi, ve lo dico, 46.500, mi stavo prendendo gli occhiali, mi prendo anche la moneta. Allora, che cosa succede? Se Bitcoin dovesse, per caso, in questi 20 giorni, breccare quel livello di resistenza. Succede questo, ragazzi, una concomitanza di due effetti. Punto primo, l'avvicinanza e la scadenza dell'anno. Punto secondo, la questione legata al fatto che questo grafico gli istituzionali lo guardano, per cui nel momento in cui, perché il grafico proprio di lungo periodo, il grafico annuale, nel momento in cui dovesse breccare i massimi storici in close, significa che ci sarà una svolta ancora più positiva. Questo potrebbe spingere con grande tranquillità Bitcoin a salire ulteriormente vicino a una soglia importante, che poi è quella che vediamo nel prossimo grafico, che addirittura sta sopra i 50.000 dollari. Questo potrebbe farlo solo di sdlancio, cioè solo per eccesso di rialzo. A quel punto un eccesso di natura emotiva è pericolosissimo. Poi nel 2024 andrà messo poi, diciamo, in considerazione. Però dovesse fare una cosa del genere è un altro trend da cavalcare. Quindi 2023-46.2, il livello di resistenza. Se tenterà di rompere, per caso, quel livello di resistenza e dovesse iniziare ad avere una giornata, una settimana di sopra di quel livello, aspettatevi un po' di pollie, perché potrebbe in effetti accelerare ulteriormente. Quindi questo, a livello proprio di tecnica molto spicciola, da un punto di vista di trading, veloce, sbaglio sempre. Ah, sta ancora lì. Allora, cosa invece dobbiamo vedere da un punto di vista invece più di breve periodo? La questione legata alla struttura ciclica. Passiamo al ciclo di lungo periodo che è quello quadriennale. Il ciclo quadriennale di Bitcoin iniziato a novembre del 2023 è stato esemplare. Un ciclo meraviglioso, ragazzi, che era difficile da prevedere, ma non impossibile, tant'è vero che moltissimi lo avevano intuito che fosse lì il punto di inizio. Noi già da gennaio ne abbiamo parlato in maniera aperta di questo grafico qui, quindi non era difficile, ve lo dico in maniera molto chiara. E questo trend di Bitcoin, se vi ricordate qualcuno di voi, io vi dissi anche che quando avevamo superato il livello delle medie, anche sul grafico, diciamo questo qui, quando era stato fatto questo breakout già nel gennaio 2023, non eravamo mai andati poi al di sotto della media a 12 settimane, quindi a 26 settimane, che insomma era importante quando faceva questo tipo di segnale. La stessa cosa anche sul grafico di natura mensile, quando è andata a breccare poi in maniera confermativa in sostanza a marzo 2023 il break della candela della media a 12 mesi. questo significa una media annuale. Da lì in poi guardate la costanza anche dell'andamento e la precisione anche di questo tipo di logica, ragazzi. È rientrato all'interno di queste due medie, come si usano le medie mobile in questo modo, l'ho spiegato nel mio corso di formazione, ma lo trovate scritto nel libro di Elder, ragazzi, perché è una tecnica di Elder, quindi il nuovo vivere di trading. Poi ovviamente dovete sapere che cosa state facendo, quindi l'ora è che lì ci sono queste medie fatte da me, c'è il modo in cui io le utilizzo che è diverso. Allora, questa struttura poi cosa ha fatto? Ha creato una trend rialzista importante, ma già fino al raggiungimento dei 34-35 mila dollari ci stava tutto e sono questi altri due mesi che hanno dato eccesso, ragazzi, cioè novembre e dicembre, perché dicembre insomma ancora in essere perché stanno dando proprio il trend a questa nuova struttura. Quadriennale dei Bitcoin iniziato a novembre, mese di novembre 2022 in pieno sviluppo finirà a ottobre 2026, quindi già potete prepararvi, ovviamente ragazzi non sono convinto che si ripeta così alla perfezione, ma se dovesse essere saremmo in una botte di ferro. Cosa ha fatto il precedente quadriennale che quella è la struttura che vedete qui, ha creato un massimo a 1066 giorni, cioè in questo caso un massimo storico lo riporteremo a ottobre 2023 qualora questo tipo di logica e di ripetitività sarà la stessa, cosa in cui io credo veramente poco, ma comunque è un'informazione che è giusta da tenere in considerazione perché è importante. Quindi la stessa ripetitività però giusto a ragione del vero bisogna dirlo è stata fatta nel 2017 quindi la bolla del 2017 a 1065 giorni ha creato il suo massimo quindi ovviamente questa è una struttura mensile quindi ragazzi qui i giorni sono deliberatamente attuati in maniera di smoothing e potete se fate il riferimento al giornaliero trovate giorni diversi ma a me non interessa perché qui parliamo di massimi storici quadriennali quindi non vado a vedere il singolo giorno perché è sbagliato farlo proprio tecnicamente non bisogna farlo è già troppo guardarlo a livello mensile quindi direi che 35 mesi che è più giusto dire 35 mesi 35 mesi 35 mesi io l'ho posizionato quindi a 35 mesi dall'inizio il massimo storico allora altra questione legata a questa struttura ciclica siamo arrivati su un livello importante che è questa zona dei 43 al di sopra di questa fase vi faccio vedere anche il la struttura diciamo delle close mensili che vedete con le linea c'è questo livello di resistenza scusate a 46 che è quello che vi dicevo prima 45 46 2 che è importantissimo al di sopra di questo livello il successivo il successivo in close è 60.000 ragazzi 60.000 sopra 46.2 non c'è nulla nulla a livello di resistenza cosa significa il mercato poi può schizzare a 60.000 sì lo può fare e anche per una questione tecnica perché di solito insomma avviene questo tipo di accelerazione in più in teoria la distanza non sarebbe così eccessiva certo è un circa 30% non è poco però sappiamo che bitcoin riesce a fare queste cose anche in poco tempo anche per sdlancio magari c'è una notizia particolare che potrebbe uscire fuori e magari fa uno sdlancio però al di sotto di questo livello di resistenza che sono quella di prima 46.2 il mercato potrebbe aver diciamo chiuso i giochi per quest'anno non c'è niente di strano insomma in questo ci aspettavamo un massimo intorno a dicembre massimo che sembrerebbe arrivato un po' prematuramente io me lo aspettavo intorno al 20 siamo intorno al 6-7 potrebbe averlo fatto in questi giorni è un po' prima però teoricamente adesso da qui si entra in una fase diversa cioè la fase da trader cioè la fase in cui bisogna essere preparati a cercare di capire se i giochi sono fatti e dobbiamo riposare per qualche mese o ancora no al momento l'inversione di trend non è avvenuta su nessun time frame quindi tutte le posizioni sono long assolutamente long in essere e non devono essere diverse assolutamente no lo short perché anche se fosse che da qui inizia una curva ribassista è pericolosissimo è rischiosissimo quindi o siete trader che state lì con lo stop loss attaccato o non fatelo assolutamente attendete che il mercato poi eventualmente faccia magari segnali di inversione e poi si gestisce insomma la questione al momento la cosa principale da fare secondo me è gestire le posizioni long che sono state aperte precedentemente noi in questo caso l'ultima che abbiamo aperto era in questo mese nel mese di ottobre intorno a 28.000 e qualcosa quindi c'è questa slancio rialzista che stiamo gestendo ragazzi gli stop sono molto lontani perché sono posizioni lunghe quindi chiaramente anche qualora dovesse reversare poi ci vuole un po' per chiudere quelle posizioni quindi questo il livello nuovo di resistenza da un punto di vista di ciclo annuale invece analisi ciclica più importante poi vi faccio vedere l'ultimo grafico che è questo qui stratosfericamente importante perché dobbiamo farlo lì anche questo tipo di ragionamento allora dal punto di vista di annualità che cosa succede qui abbiamo avuto facciamo così l'annuale lo andiamo a vedere sul grafico settimanale perché questo è troppo lungo tra le altre cose vi faccio anche notare che io avevo inserito vedete max 1 per questa struttura ciclica lo avevo inserito questo è lo stesso grafico che trovate ragazzi in tutti i video non è modificato l'avevo inserito intorno alla settimana prossima è arrivata questa la fa la prossima vediamo un po' questa zona la possiamo togliere che è la fase di ribasso del semestrale che poi ha fatto un semestrale più una specie di lingua di buyer e in pratica abbiamo una info allora qui sotto io vi ho segnato il ciclo annuale di bitcoin teoricamente può chiudere anche a febbraio oppure se allunga insomma diventa molto più lungo anche intorno ad aprile cioè si prende marzo ecco diciamo così perché aprile è insomma l'uno aprile quindi si prende marzo quindi potrebbe chiudere da più o meno metà febbraio fino a tutto marzo in questo caso e potrebbe essere interessante andare a comprendere appunto se stiamo disegnando il massimo dell'annuale che è lo che è iniziato appunto il primo annuale del quadriennale è iniziato a novembre 2022 ora questa cosa qui è importante perché ragazzi perché se andiamo a riposare facciamo i massimi ovviamente poi un po' di riposo un po' di ripasto trading range ci sarà però 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 c'è anche un'altra view in questione che può essere utilizzata secondo me ragazzi cioè l'ipotesi che in questo punto qui a settembre sia stato chiuso un annuale corto di bitcoin e che in realtà siamo su un nuovo annuale già iniziato in pratica che insomma è un annuale corto che compone due annuali messi insieme a forma ternaria ma se così fosse in pratica allungheremo i tempi per la struttura dei massimi e quindi invece di avere una zona di marzo febbraio di debolezza possiamo averla addirittura di forza allora questo dubbio ancora non è possibile andarlo a esplicitare quindi dobbiamo tenerlo in considerazione è irrilevante da un punto di vista operativo perché il mercato non ha mai segnato un'inversione in questo momento quindi anche volendo ragionare di struttura circa annuale che si chiuderà fra pochi mesi comunque troppo presto quindi in questo momento ancora bisogna o stare lungo o attendere che il mercato ci dia delle informazioni da questo punto di vista però noi dobbiamo portarci avanti io sono in questo caso un po' indeciso fra le due precedentemente qualche mesetto fa mi piaceva di più questa views ternaria che vi stavo dicendo però sulla base di alcune considerazioni dell'accelerazione attuale un po' eccessiva tra virgolette di bitcoin ho ripreso la view standard quella del ciclo annuale che deve ancora chiudere lo so sembra strano dire ma come è accelerato quindi è chiuso no in realtà no secondo me perché l'ha fatto in troppo poco tempo quindi se dovesse essere poi una forma ternaria significa che noi che cosa facciamo cioè veramente facciamo i massimi storici o da qui a marzo febbraio o barra di congestione o cose del genere quindi sostanzialmente sono un po' indeciso fra queste view ma all'interno del canale ragazzi andremo a ragionare su queste cose insomma in maniera più tranquilla vi faccio vedere l'altro grafico intanto vi tolgo l'indicatore fbg ok vi faccio vedere l'altro grafico quello che è invece il rapporto tra bitcoin e nasdaq 100 il rapporto di forza che noi utilizziamo tra le criptovalute e quello che è il mercato tecnologico per eccellenza quindi nasdaq e in questo caso io vi ho posizionato le view di natura ternaria proprio per farvi vedere la struttura così sviluppata quindi invece qui come vedete ci sarebbe sempre la clause ciclica annuale però io ho inserito in questo caso vedete 1 2 e 3 quindi una forma ternaria per avere un punto di vista differente anche su questo tipo di mi è finito lo spazio diciamo per fare i mazzi anche per questo tipo di grafico allora cosa ci dà questo grafico dei movimenti più precisi e anche dei livelli diversi di resistenza per esempio un livello di resistenza che in questo momento il mercato di bitcoin contro nasdaq questo è un grafico spread si ottiene dividendo bitcoin per nasdaq 100 ci dà un livello di resistenza più alto non è interessante il punto è interessante soltanto la zona da un punto di vista geometrico ragazzi non il prezzo perché questo è uno spread quindi non è tradabile ma questa zona è il vero livello di resistenza e quindi otteniamo una informazione se in questo caso ha ragione di nuovo questo grafico e non quello che abbiamo visto su bitcoin spot vuol dire che bitcoin deve spingere ancora rispetto a nasaq 100 e probabilmente questo significa che il raggiungimento dei 46 potrebbe essere dietro l'angolo abbiamo un 11% per raggiungere il nuovo livello di resistenza e avremo teoricamente bitcoin con un 11% che arriva intorno ai 48 mila dollari a meno che nasaq appunto non faccia una impennata rialzista oppure crolli in questo caso cambiano ovviamente le proporzioni però questa è un'informazione interessante perché significherebbe che questo momento rialzista ancora il tutto non l'ha giocato e mancherebbe qualcosina gli ultimi sgoccioli diciamo di questa fase la questione è quindi ora proiettata a gestire questo dicembre 2023 soprattutto la prossima settimana occhi aperti enormi e poi da lì avremo tante informazioni su quello che può essere questo 2024 perché ragazzi già solo il superamento come vi dicevo prima del 46.000 qualcosa in chiusura almeno daily ma io proponderei per una settimanale minimo indicherebbe una storicità unica per bitcoin sarebbe interessante a vedere proprio i primi mesi del 2024 che a quel punto ragazzi non me l'aspetto scoppi e tanti dovesse succedere una cosa del genere quindi occhi puntati a 46.000 e 2 chi di voi invece pensa che da qui crolliamo che non è sbagliato attenzione pensare a una cosa del genere perché abbiamo visto che c'è la questione dell'annuale ciclico ma è prematuro che è diverso una cosa essere prematuro una cosa essere sbagliato il pensiero noi ci stiamo preparando ma chi di voi pensa che da qui crolliamo scrivetemelo nei commenti e noi ci confrontiamo e ci vediamo ovviamente nel prossimo video ciao a tutti